ciao a tutti anime colorate benvenute in questo nuovo video non ci vediamo nuovamente da un po e vi chiedo scusa però sinceramente avevo veramente dei problemi col mio aspetto nel senso che c'è l'orgente bisogno di un barbiere sul discorso di autostima pesante poi come sapete come vi ho detto più volte il periodo non è assolutamente passato proprio per niente nella maniera più totale e quindi questo fa anche sì che le idee siano poche gli stimoli pochi ma vi devo dire che anche le visualizzazioni sono poche e no non mi dite non mi dite per tutti per tutti per tutti perché ci sono i canali true crime che stanno immaginando iscritti come se non fosse un domani se io convertissi il mio canale in true crime la mia jazz carna utenza non potrebbe potrebbe non essere interessato quindi non credo che sia un lavoro che farò se volete vi ricordo che potete iscrivervi lasciare un valore di 10 euro cliccare sulle pubblicità o semplicemente visualizzare tutto il video non so se questo sarà monetizzato perché non credo che durerà 10 minuti ma tenevo comunque a riproporre una iniziativa che lo scorso anno in questi tempi ha ricevuto un discreto successo che è quella dei regali di natale confido che mi sarà risparmiata la morale perché non ho mai costretto nessuno a farli io semplicemente messo la lista e sono arrivati quindi ho fiducia in voi chi volesse in alternativa può fare una donazione di qualsiasi importo nella mia raccolta fondi che cercherò di ritirare con un pochino di anticipo perché devo affrontare un viaggio obbligato infatti alla pubblicazione di questo video dovrà anche essere cambiato quello che è l'indirizzo di destinazione di amazon altrimenti rischiereste di mandarlo in una casa in cui non ci sono più io no non è un trasferimento in qualche posto speciale esotico non è un trasferimento in casa mia non sono fidanzato non vado a convivere niente di tutto ciò sarebbe troppo bello semplicemente si ritorna alle origini perché perché così è io avrei tanto da raccontare ma non posso perché c'è in mezzo il coinvolgimento di altre persone e quindi di fatto su questi canali pubblici non si saprà mai la verità chi avesse interesse a parlare con me può farlo come al solito tramite canali privati io ho smesso di cercare perché c'è gente a cui ho detto scrivimi in privato da un anno e non lo fanno quindi evidentemente non interessa continuate pure a commentare i miei video se volete prometto che tornerò quello di prima fatemi soltanto mettere a posto me stesso che è la cosa più essenziale e sono sicuro confido che torneranno le idee non vi faccio alcun tipo di augurio semplicemente perché spero di produrre ancora qualcosa ma non ve lo prometto e quindi se riuscirò ve li farò un pochino prima qualche giorno prima dell'inizio delle feste vere e proprie sto già pensando a come fare ma non vi anticipo nulla e volevo fare un altro tipo di video per non parlare veramente solo ed esclusivamente dell'iniziativa natalizia e dei regali ma purtroppo non sono sufficientemente ispirato ricordo che chi facesse la donazione non sono una certa ragazzina valsata agli onori della corona che non c'è il caso come ci compri una macchina ma qualsiasi donazione sarà utilizzata soltanto ai fini dei cambiamenti che sto attraversando che vanno parte della mia vita a 360 gradi quindi io vi saluto vi mando un bacio enorme finalmente con un aspetto mi fa sentire più bello e ci vediamo al prossimo video ciao